Sono le 15 e 19 del 25 febbraio 2024, ci troviamo al Parco Saldo Nord, Comune di Marzi. Questo è un'ora insolita per fare escursioni, perché le escursioni di solito si fanno sempre la mattina. Allora, si vede una parte dell'aria Fucenza, qui sopra c'è il Sant'Ora della Madonna Cantellettica, non si vede. E lì sopra c'è Montebello, non si vede, vabbè. Comunque sia, proseguiamo verso la ponte Saldo Nord. Allora, se vado a questo ritmo quasi spedito, diciamo massimo 15 minuti arrivo. Se poi vado più calmo, 20 minuti. Vabbè, io non ho fretta. Vediamo qui man mano il piacevole sendiero, ecco la sendieristica. Qui ci transigono anche, non so, un motocross, un reale. Guardate com'è bel percorso. E qui c'è l'area percorso dalle. Andiamo da questa parte, si continua a salire. E qui di fronte a me vedo un castagno essiccato. Grazie. Grazie.